Area di crisi e prospettive per il Molise, se ne è parlato a Isernia, con l'intervento del vice ministro dell'economia Zanetti di economissi rappresentati del monto imprenditoriale e amministrativo regionale. In effetti c'è bisogno di chiarezza perché tutti parlano spesso a sproposito di area di crisi, di aziende e ruolo del governo, perdendo di vista il vero obiettivo dello strumento di finanza straordinario. È evidente che non si devono commettere gli errori della precedente programmazione ed è proprio per questo che diciamo con chiarezza, come per noi, le risposte non sono i finanziamenti e i contributi a pioggia, non sono le miriadi di microprogetti che hanno caratterizzato lo scorso settennato di contribuzione europea, ma sono convergere su pochi progetti qualificanti, possibilmente anche con una forte valenza infrastrutturale sulla mobilità e sui trasporti perché il Sud e anche il Molise si muovono se c'è la possibilità di muovere persone e merci. La richiesta per l'area di crisi fu varata dal governo regionale e dalla delegazione parlamentare appena dopo la crisi industriale che colpì Isernia e oggi arrivano finalmente i primi risultati. Io sono sempre conseguenziale rispetto alle cose che dico e quindi ripeto anche quella che è stata insomma un'azione concreta da parte del governo regionale che mi ha visto protagonista insieme all'assessore Petraroia rispetto a delle aree ben definite come quella di Boiano per l'agroalimentare, come quella di Isernia per il Tessile e come quella di Pozzili per quanto riguarda l'automotive. Andare a suddividere in provincia di Sennia e in provincia di Campobasso con all'incirca 33 comuni per provincia mi sembra un attimino un po' esagerato anche perché, permettetemi, fatti 66 comuni avremmo potuto farne anche 130 insomma. Chi ha approfittato dei suoi contatti romani per organizzare la visita molissana di Zanetti, esponente di scelta civica nel governo Renzi, è stato Mimmo Izzi, del centro anche lui coordinatore regionale dell'Udc. Chiarire una volta per tutto che cos'è quest'area di crisi, quindi per far questo ho voluto il vice ministro, l'amico Enrico Zanetti e persone autorevoli che appunto sul tavolo degli oratori che ci sarà, quindi parleranno chiaramente di che cos'è quest'area di crisi che è un momento importante. Questo momento va accolto e va soprattutto guidato, ma guidato nel miglior modo per dare davvero un risultato vero a quest'area di crisi.